Ok, siamo arrivati all'ultima seduta di questa settimana. Coraggio! Oggi il lavoro è strutturato in questa maniera. Abbiamo dei blocchi da dover eseguire per portare a conclusione la nostra seduta complessivamente. Si parte con un Bai Hin, un esercizio che fai una sola volta, con le serie e le ripetizioni che ti ho indicato. Solo all'inizio lo fai, ed è la parte con lo skip. Non c'è regressione sotto il profilo della proposta dell'esercizio. L'esercizio resta quello. Sei tu che scegli la frequenza e l'intensità con cui lo affronti. Rispetta il lavoro e il recupero in maniera precisa e cerca di gestire la frequenza cardiaca durante tutta l'esecuzione. Rallenta ma non fermarti. Passata questa fase, incominciano due blocchi di lavoro da un tempo predeterminato. Ne parliamo dopo. Ogni blocco è composto da due esercizi. I due esercizi hanno, come al solito, le regressioni, che ti faccio vedere nel video. Tu cerchi di fare più giri che puoi all'interno del tempo che ti ho dato. Quanto durano questi round? Hai minimo quattro minuti di lavoro. Ok? Quindi non si scende sotto quattro minuti di lavoro dove si va avanti in loop senza riposo a fare la coppia di esercizi alternata. Una e una con le ripetizioni imposte. Si arriva fino a sette minuti. Quindi puoi scegliere tra quattro fino a sette minuti di lavoro per blocco. I blocchi quindi saranno due, composti da due esercizi. Le regressioni le vedi all'interno del video. Per concludere il tuo allenamento avrai un cash out, composto fondamentalmente dal bar P. Devi fare un certo numero di bar P per concludere il tuo allenamento. Ti lascio in descrizione il video dove ci sono le regressioni dell'esercizio. In questo caso, essendo l'ultimo stazione della settimana, il numero di ripetizioni rimane quello. Scegli tu con che modalità tecnica eseguirle. Dai che siamo arrivati al fondo anche di questa settimana. Sei stato grande. Coraggio! Partiamo appunto con lo skip. abbiamo da fare il nostro lavoro per poi passare ai primi blocchi che sono composti da un side to hop jump e il lavoro sarà a ripetizioni dove o facciamo la prima variante o questa seconda con solo passi accostati. Il secondo esercizio sarà lo squat jump o lo squat normale che adesso ti mostrerò. I due esercizi vanno avanti in loop per il tempo imposto. Secondo round di lavoro. Sempre ti ricordo tra 4 e 7 minuti. primo esercizio che sono dei push up to lunge come puoi vedere inserisco la gamba dal lato in cui alzo il braccio oppure semplicemente lavoro nella stessa condizione con dei normalissimi push up piegamenti sulle braccia. In questo caso alterniamo, possiamo anche valutare la variante sulle ginocchia e lo alterniamo al jumping jack. Anche in questo caso abbiamo il nostro round di lavoro che va da 4 a 7 minuti in funzione di quelle che sono le nostre esigenze. I 30 bar P finali sono da eseguire con la modalità esecutiva che più prediligi. Ti lascio in descrizione le varie varianti.